Colleghi, ho il piacere di presentarvi alcune ricette molto semplici con l'emulsionatore. Partiamo dal caffè shakerato, un buon caffè caldo, espresso o un caffè freddo che avete preparato anzitempo. Portiamo il tutto sul nostro bicchiere miscelatore, azioniamo aspettando il microchip. In 3-4 secondi a media velocità abbiamo già ottenuto il nostro caffè shakerato. Vi ricordate quando dovevamo shakerare minuti e minuti per ottenere un ottimo caffè shakerato?